Non abbiamo bisogno di cambiare mai, non è una partita neancura della pietra, e l'Inter prima ha detto il rispondo di 100% di rischio più. Non lo vado a razzare. Lo ho assoluto, un complimento, grandissimo ammignazionale, proprio per il giro lungo di cui si parla la prima che lei ha fatto. E' un tesoro. Esatto, è un'erricchiazione, è un tesoro. Giorginio prima parlava degli altri, tu con una parola, però la fatica, bisogna ancora fare molta fatica, fare una cosa in più per aiutare il tuo compagno, il calcio è uno sport di fatica. E' uno sport di, in parte di fatica, ci sono sport di fatica possibile, è uno sport di elettore ciclo, perché ci sia la base dell'elettore ciclo, ci devono essere forti motivazioni con il tipo. E' uno sport di fatica, e non lo faccio sempre, e non lo faccio sempre. Senti, c'è una domanda per lei, ma che non so dire, spettacolo adesso, con l'elettore della grafica, glielo leggo subito. Arrivo da lei. Allora, Michele Cagli, si, ci chiede, come è riuscire a staurare un po' che è così fantastica con l'Iguaina? Che, tra l'altro, questa settimana, insomma, la ringraziata pubblicamente, dicendo che il canzellere ha trovato... Cambiata la musica. Eh, cambiata la musica, comunque non lo faccio sempre più sesso che mi mancava. Io penso sia un rapporto molto naturale, un rapporto sempre, che ho detto che il primo giorno è quello che pensavo di lui, con 98 aspetti positivi, un paio negativi, quindi l'ha accertato a presto rispondere al fondo di miglioramento, e quindi la cosa diventò molto, molto sincera e reale in tutte e due le direzioni. Abbiamo altre domande ancora. Quello che sta sottolineando Sarvi, secondo me, in vista anche la popoligia, è che la sicurezza produce anche i giocatori nel giorno delle cose che stanno facendo. 20 minuti al secondo tempo, dopo 1-0, avversaria spettacolare come personalità. Oggi, anche su 1-0, su 2-0, la squadra sembrava completamente tranquilla, da dare dei segnali molto positivi, ma negativi per gli avversari. Quindi, credo che la presa sia piano, piano e tale, come un tale. Mentalmente, rivelo molto diverse rispetto a un'altra cosa che si fa. Vedo più confini del loro potenzialità, soprattutto il loro serenimo, che si diverte la zona della interpartita, e con questa è una cosa molto importante, che la squadra si diverte solitamente, ma anche di dire, di me, mi piace questo aspetto e anche questo momento. Ma quando non sto solo, vedete, mi hanno un sorreo a rinforzato, non la lezione direttamente, mi vedi i quadri sbagliati? Eh sì, chiaramente la voi portate, no? La voi portate, no? La squadra è un allenatore forte, è un grande agrante, e sicuramente saprà, a dire, per i piedi, la situazione del bimaccio, che è una buona squadra, che ha fatto la prima mezz'ora su buoni livelli, e chi ha visto solo la prima mezz'ora, e che risultato che ha gli, ma che è abbastanza sorpreso. Quindi, lui saprà sicuramente, ovviamente, la sua squadra, perché, come ho detto, è un grande allenatore, un grande agrante, ecco, è un grande persona che è più diosato. Non si è visto, non si è visto, non si è visto. Ecco, per lo meno, era un'opinione corrente, che il Napoli fosse una grande squadra, anche potenzialmente dal centrocampo in su, e che invece denunciasse quante limite di pensivo. Adesso la difesa è diventata invece interneabile, vuol dire che l'intero gioco di squadra, che è tale da consentire anche al pacchetto di retroguardia, di essere interneabile. Grazie, vi ho fatto dei progressi.